Emiliano Campioni E' ovvio i miei pagano l'inesperienza, poi l'abbiamo visto anche nelle ultime fasi della partita, gli errori sottoporta, calcolando che la maggior parte non ha mai fatto la categoria, quindi questo è il primo anno che fanno questo tipo di categoria e alla fine paghiamo questi errori, è ovvio però nel totale del match sono comunque soddisfatto perché abbiamo tenuto testa secondo me per buona parte della partita, una squadra ben attrezzata, una squadra fatta di giocatori anche se l'assenza di Renzi diciamo però gli altri non sono da meno, insomma ben allenata, una squadra avversaria molto forte, prendo Che tipo di campionato pensate di fare a questo punto? No, noi siamo partiti per salvarci, i nostri intenti sono quelli di salvarci, di fare esperienza e di puntare sui giovani, vediamo un attimino noi tranne oggi abbiamo comunque sempre un paio di juniors, i rosa costantemente si allenano con noi, quindi noi puntiamo a questa, a ringiovanire un pochettino anche perché insomma la squadra viene da un campionato di Serie D dell'anno scorso, quindi noi il nostro programma con il Presidente è quello mano a mano di ringiovanire e di cercare di mantenere la categoria, noi questo è il nostro campionato insomma Mister Angeletti, una vittoria finalmente convincente che riscatta le ultime due partite, un inizio diciamo soft e poi la squadra è progressivamente cresciuta moltissimo No, la squadra diciamo che ha giocato, abbiamo, non mi direi troppo soft all'inizio, insomma potremmo fare meno due o tre gol nei primi 15 minuti, però purtroppo abbiamo questa cosa quest'anno che è sottoporta, non siamo imprecisi, sbagliamo tantissimo questo è successo dal primo che al secondo e la paghiamo perché poi tiriamo il risultato finale, è una squadra bella, aggressiva, veramente gioca, credevo, non me l'aspettavo così Diciamo che in alcuni casi le vostre ripartenze sono state, è mancato forse il timing giusto, soprattutto alla fine magari del primo tempo, però poi comunque le cose sono andate molto meglio nella parte finale della partita Sì sì, ma sicuramente poi col passare dei minuti siamo cresciuti, il possesso di palla, insomma loro tentavano solo di ripartire, stavamo sempre alti, quindi comunque abbiamo incluso parecchio purtroppo, abbiamo raccolto anche oggi pochino per quello che abbiamo concluso Dobbiamo lavorare lì e in effetti oggi con l'assenza pure di Terenzi qualcosina è mancata un po' davanti, però la squadra oggi ha reagito, ha giocato, non siamo ancora bene fisicamente, questo la paghiamo un pochino Però va bene, insomma, rispetto a, ma che poi sabato scorso pure a fondo abbiamo perso una partita, ma insomma abbiamo perso 2-1 commettendo un paio di errori alla fine, perché poi insomma, anche se abbiamo riconosciuto i meriti dell'avversario sicuramente Enrico Pasquale Coluzzi per Mondofuza TV